Io vorrei ringraziare innanzitutto Telefono Azzurro per tutto quello che ha fatto nel corso di questi 30 anni. Io sono stata una delle primissime sostenitrici, all'inizio anche una dei pochi magistrati amici di Telefono Azzurro e l'agurio che faccio è di continuare così per almeno altri 30 anni. Tanti auguri.